Sui margini dell'altipiano a mille metri vera il più grande disordine. Noi vi eravamo arrivati il 5 giugno per la Val Frenzela, partendo da Val Stagna, con le misure di sicurezza d'avanguardia, perché non era chiaro dove fossero i nostri e dove gli austriaci. Il reggimento si schierò fra le pendici di Stoccaredo e la strada Gallio-Fozza, e il mio battaglione prese posizione al Buso, minuscolo villaggio che sbarra lo sbocco di Val Frenzela. Gli avamposti furono collocati nella conca verso Ronchi, a caso, sulle vie da cui potevano provenire le vanguardie nemiche. Sapevamo solo che esse, traversata la Val d'Assa e conquistato Asiago, si spingevano innanzi a Ventaglio, al di qua di Gallio. Mi si diceva che, fra noi e loro, vi fosse ancora sperduto qualche reparto italiano. Quello che era certo è che il nemico sfruttava audacemente il successo. Nella conca di Asiago, numerose batterie da campagna manovravano in pieno giorno. Il ponte di Val d'Assa, distrutto dai nostri, era stato ricostruito dagli austriaci in qualche giorno. Tutta la nostra artiglieria era caduta in mano al nemico. Noi non avevamo più, su tutto l'altipiano, neppure un pezzo. Solamente dal Forte Lissère, vecchio forte smantellato fin dal 1915, tiravano due pezzi da 149 e sempre sui nostri. Fortunatamente, gran parte delle granate non esplodevano e noi non avemmo perdite. Quelche giorno dopo, quel forte fu battezzato dai nostri corrispondenti di guerra, il leone dell'altipiano. Il comandante del battaglione mi mandò con un plotone verso Stoccaredo. Avevo il compito di prendere collegamento con qualche reparto del nostro esercito, che doveva trovarsi lassù, e assumere informazioni sul nemico. Preoccupato di poter cadere in mano agli austriaci, io avevo chiesto di avere con me tutta la compagnia. Il maggiore mi voleva dare solo la scorta di una squadra. Fu adottata la via di mezzo e avevo avuto un plotone. Il sole era già tramontato quando caddi a nord di Stoccaredo su un battaglione del 301esimo fanteria. Lo comandava un tenente colonnello sulla cinquantina, che trovai all'aperto, seduto su un tavolino improvvisato con rami d'albero, una bottiglia di cognac in mano. Egli mi accolse molto gentilmente e mi offrì un bicchierino di cognac. Molte grazie, e dissi, non bevo liquori. Non beve liquori, mi chiese preoccupato il tenente colonnello. Tirò dal taschino della giuba un tacuino e scrisse, conosciuto tenente a stemio di liquori, 5 giugno 1916. Si fece ripetere il mio nome, che io gli avevo già detto presentandomi, e lo aggiunse alla nota. Per non perdere tempo, io gli dissi subito la ragione di servizio che mi aveva spinto fino a lui, ma egli, prima di rispondermi, volle conoscere qualche dettaglio sulla mia vita e sui miei studi. Così seppe che ero ufficiale di complemento uscito dall'università allo scoppio della guerra, ma era sempre la questione dei liquori che lo colpiva maggiormente. Appartiene lei forse a qualche setta religiosa? Mi chiese. No, risposi ridendo. Perché mai? Strano, eccezionalmente strano. E vino? Ne beve? Un po' a tavola, così, un po' durante il pasto. Io ripetei le domande sulle posizioni nemiche e sui nostri, ma egli non aveva fretta. Bevette ancora un bicchierino e mi accompagnò con passo lento ad un osservatorio distante una cinquantina di metri tenendo sempre in mano la bottiglia e il bicchierino. Per distrazione, certo, perché, all'osservatorio, egli non bevete mai. Dall'osservatorio si aveva ancora un panorama chiaro, illuminato dagli ultimi riflessi del sole. In fondo, a nord, a una trentina di chilometri in linea d'aria, cima a dodici, di fronte la catena di monti culminante a Monte Zebio, le creste di Gallio e, elevato su tutti più a destra, Monte Fior. Fra noi e quelle cime, la conca di Asiago. Più in basso, proprio sotto di noi, la più piccola conca di Ronchi. Dove sono gli austriaci? Chiesi. Ah, questo non lo so. Questo non lo sa nessuno. Sono di fronte a noi. Potrebbero, da un momento all'altro, essere anche alle nostre spalle. Ciò dipende dalle circostanze. Quello che è certo è che essi sono dappertutto e che, oltre al mio battaglione, non vi sono truppe italiane. Io chiesi schiarimenti sulla posizione del monte più alto, che egli mi aveva detto essere Monte Fior. L'avi sono i nostri, questo è certo. Gli austriaci non vi sono ancora arrivati. Il monte è alto a 2000 metri. È perciò che i nostri comandanti lo chiamano la chiave dell'altipiano. Il tenente colonnello mi indicava le posizioni con la bottiglia. Frequentemente avvicinava la bottiglia al bicchierino come se volesse riempirlo, ma ogni volta arrestava a tempo la bottiglia e il bicchierino rimase sempre vuoto. Su quella chiave i comandi, per non perderla, hanno ammassato una ventina di battaglioni, mentre qui, alla porta, tutti compresi, non siamo che quattro gatti. L'idea è sbagliata di sana pianta, ma è scritto netta esti che tenendo la vetta ad una montagna si possa impedire al nemico di passare per la vallata sottostante. Vede laggiù lo sbocco di Val Frenzela sotto di noi. Fra lo sbocco e Montefior vi saranno in linea d'aria non meno di quattro o cinque chilometri. Se gli austriaci forzano lo sbocco, la porta, vi possono infilare tutta un'armata senza avere un ferito, mentre la chiave resta appesa al muro. Lei non beve. A me pare che se noi abbiamo lassù venti battaglioni, qui gli austriaci non possono passare. E come lo impediscono i nostri venti battaglioni da lassù? Con l'artiglieria? Ma non ve ne abbiamo un solo pezzo e non ve ne potrà essere uno solo. Che mancano le strade. Con le mitragliatrici e i fucili? Armi inutili a tanta distanza. E allora? Allora niente. Perché se noi siamo degli imbecilli, non è detto che di fronte a noi vi siano comandi più intelligenti. L'arte della guerra è la stessa per tutti. Vedrà che gli austriaci attaccheranno Montefior con 40 battaglioni, inutilmente. E siamo pari. Questa è l'arte militare. La conversazione mi era interessante, ma la notte si avvicinava e io non volevo rifare il cammino al buio. Avevo aperto una carta topografica e mi sforzavo ad orientarla. Lei non beve. Poi, abbandonando l'osservatorio e con tono canzonatorio, non si affidi alle carte, altrimenti non ritroverà più il suo reggimento. Creda a me che sono un vecchio ufficiale di carriera. Ho fatto tutta la campagna ad Africa. Ad Ado abbiamo perduto, perché avevamo qualche carta. Perciò siamo andati a finire ad ovest invece di andare ad est. Qualcosa come se si attaccasse Venezia invece di Verona. Le carte in montagna sono intellegibili solo per quelli che conoscono la regione, per esservi nati o vissuti, ma quelli che conoscono già il terreno non hanno bisogno di carte. Rifacemmo indietro il percorso fino al comando del battaglione. Egli si avvicinò al tavolino di rami. Si sedette e bevete due bicchierini, uno alla mia e uno alla sua salute. Io lo ringraziai e messomi alla testa del plotone che mi attendeva, ripresi la strada per rientrare al reggimento. Qualche cosa di vero doveva esserci nelle teorie del tenente colonnello. Quella sera io perdetti la strada del ritorno. Ciò non sarebbe avvenuto se avessi rifatto la stessa strada. Ma era già tardi e io cercavo una scorciatoia per evitare la strada carreggiabile che conduce al buso. Troppo lunga. Il sentiero che avevo scelto passava interamente nel bosco, dove incominciava già a farsi buio. A pochi metri da un bivio, in un terreno accidentato e coperto di cespugli, fumo accolti da una scarica di fucileria. Io mi accorsi troppo tardi di aver obliquato a sinistra anziché puntare più a destra verso Val Frenzela. A terra! gridai. A destra! Stendetevi! Il plotone si buttò a terra e cominciò a stendersi i carponi. Noi eravamo sotto il fuoco, ma protetti dall'andamento del terreno e dal bosco fitto. I cespugli ci nascondevano completamente. Maledetti ungheresi! Questo è il mio sergente che era al mio fianco. Mi hanno bucato un braccio. Ungheresi? Mormorai. Sì, signor tenente, ho avuto il tempo di vederne uno in piedi. Ha il trifoglio sui pantaloni. No, dissi, lei si sbaglia. Sono bosniaci. Bosniaci ci avevano infatti detto, al comando di divisione, che l'avanguardia nemica era formata da una divisione bosniaca. I bosniaci non portavano il trifoglio sull'uniforme. Il plotone si era steso e sparava con calma. Il sergente si fasciava il braccio ferito aiutato da un soldato. La superiorità delle truppe che avevamo di fronte era evidente. Quello era il fuoco di almeno una compagnia. Se ci avessero attaccati, noi saremmo stati sopraffatti. Io feci innestare le baionette e passai la voce di stare a contatto di gomito, pronti al contrattacco. Ero intanto preoccupato. Avevo ricevuto l'ordine di fare una ricognizione per prendere contatto con la sinistra e avere schiarimenti sulla situazione, non già ad impegnarmi in combattimenti. Il plotone era una scorta contro sorprese di pattuglie, non un reparto capace di sopportare uno scontro simile. Decisi perciò di indietreggiare. Dopo il primo nervosismo, il tiro nemico si era calmato. Ora si sparavano solo colpi isolati. Per coprire il rumore del ripiegamento feci sparare una bomba a mano. Il soldato che mi stava più vicino accese una sipe, ne controllò calmo l'accensione, nella mano, scattò dritto in piedi e la lanciò alta, perché non fosse fermata dagli alberi. La bomba scoppiò bene, cadendo dall'alto con un fragore che la foresta rese più cupo. Le schegge si dispersero con sibili stridenti, un miagolio di gatti. Era la prima bomba sparata da noi sull'altipiano. Un attimo di silenzio seguì nella foresta. Dalla linea nemica una voce sonora rispose «Alla tua faccia!» La fucileria riprese più intensa. Di fronte a noi un razzo luminoso ci levò nell'aria altissimo e rischiarò la foresta e tutta la valle dei Ronchi. Noi ci appiattimmo sull'erba, come foglie. Forse a ragione insergente, pensai, debbono essere ungheresi della costa adriatica. I bosniaci non parlano certo italiano. Il ripiegamento del plotone si faceva per gruppi di squadre e a sbalzi indietro lentamente per non perdere il contatto tra noi. Ormai era buio fitto ed era ben difficile spostarci conservando a un certo ordine. Impiegammo più di un'ora prima che, sottratti al tiro, potessimo riunirci indietro al sicuro. L'ultima a compiere il movimento fu la quarta squadra. Essa aveva fatto un prigioniero. Sotto la luce del razzo, un uomo isolato, posto fra noi e il nemico, si era venuto incontro con le mani in alto. La squadra l'aveva notato e, spentosi il razzo, l'aveva catturato. Ci voleva proprio un prigioniero per avere notizie sul nemico. Io ne fui felice. Dissi al caporale della quarta squadra «Farò avere un premio alla squadra!» Il prigioniero, senza armi, era in mezzo alla squadra, tenuto per le braccia da due soldati. Nessuno parlava, né il prigioniero, né gli altri. Ognuno era convinto dell'inutilità di una conversazione fatta in lingua straniera. Ma anche così, al buio e in silenzio, si era immediatamente stabilita quella simpatia che si crea sempre in quelle circostanze. I vincitori vogliono prodigare qualche attestazione di bontà ai vinti. I vinti le accettano, per non parere sdegnosi. Il prigioniero mangiava il cioccolato che i soldati gli avevano offerto e quando io consentì, poiché eravamo al riparo, che si fumasse, anche egli fumò la sigaretta offertagli. Ordinai l'appello dei presenti per essere certo che nessuno fosse rimasto indietro, perito o sperduto, e accesi la lampadina elettrica che avevo in tasca. Ma è del nostro reggimento, esclamò il sergente che stava controllando la fasciatura al braccio e sarà posto fra me e il prigioniero. Chi è del nostro reggimento? chiesi, distratto. Il prigioniero! Diavolo! 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 Mormorava il caporale della quarta squadra fra i denti. La lampadina illuminò la faccia del prigioniero. Sballordito, le pupille dilatate, anche egli guardava. La sigaretta gli era caduta di bocca. L'uniforme era la nostra. Sul berretto il numero 399 di nostro reggimento. Le mostrine, quelle della brigata. Sulle spalline il numero della compagnia, la nona. Il nostro stesso battaglione. Come ti chiami? Gli chiesi. Marasi Giuseppe! Mi rispose avvilito. Gli domandai il nome del suo comandante di compagnia e di plotone ed egli mi li disse. Erano i nomi dei miei colleghi del battaglione. E come hai fatto a finire così in mezzo a noi? Mi sono sbarrito. Era la nona compagnia che sparava contro di noi. Signor sì! Finito l'appello, riprendemmo il cammino sulla strada. Il soldato della nona parlava con i compagni. Ti è andata male, eh? Tu credevi di aver finito la guerra, figlio di un cane. Confessa che avresti pagato un occhio perché noi fossimo austriaci. Marasi protestava. Ma no, ma no, vi dico... E che razza di stomaco! Ti sei sbaffato il cioccolato come un vero austriaco. Tu me lo restituirai. Il battaglione rimase quattro giorni fra il Buso e la strada Gallio-Fozza a contatto con gli avamposti nemici. Gli austriaci, fermatisi di fronte allo sbocco di Varfarenzela, avevano concentrato tutte le forze su Monte Fior. Questo era principalmente difeso da due gruppi di battaglioni alpini. Il battaglione Valmaira, il battaglione dei Sette Comuni, il battaglione Bassano e alcuni altri di cui ho dimenticato i nomi. Erano tutti battaglioni regionali reclutati nell'Alto Veneto. Essi quindi combattevano attorno alle loro case. Era anche un reggimento di fanteria e qualche altro battaglione staccato. Anche il primo e il secondo battaglione del nostro reggimento erano stati mandati d'urgenza. Il mio battaglione, sostituito da altri reparti sopravvenuti attraverso la Val Frenzela, fu l'ultimo a raggiungerli. L'aiutante maggiore del battaglione fu ferito gravemente ed io, che fino ad allora avevo comandato la decima compagnia, fui nominato aiutante maggiore. Partimmo poco dopo mezzanotte da Fozza. Il comandante di brigata volle salutarci. Anche egli ci avrebbe raggiunto fra poco. Un suo figlio combatteva nei battaglioni alpini. Per la mulattiera tracciata nella roccia ci arrampicammo in fila indiana. Il rumore del combattimento di Montefior non arrivava fino a noi. Il vento lo trasportava a sinistra verso Val Dassa. Il silenzio della notte era solo rotto dai nostri passi e dalle punte ferrate dei nostri bastoni da montagna. Di tanto in tanto, scialba, ci arrivava la luce dei razzi. Alla nostra destra, oltre le pendici di Monte Ton de Recar, dall'altro versante, lontano, si sentiva frequente il guaito della volpe, rauco e stridulo, simile a un riso sarcastico. La tortuosa mulattiera finiva a Malgalora, piccola conca spoglia d'alberi e ricca d'erba, aperta sotto le vette del Monte Fior. Le sommità della conca sono la continuazione delle vette del monte, degradanti verso Monte Ton de Recar. A testa del battaglione vi arrivò alle prime luci dell'alba, quando la colonna di feriti curati nella malga e trasportati in barella incominciò la discesa. La conca si apriva di fronte a noi, verde e riposante come onoasi. Piccoli resti di neve erano ancora attorno ai cespuglie fra le rocce. Il maggiore pensava a riordinarvi il battaglione che intanto asserrava. Il rumore di fucileria era ormai distinto. La vetta di Monte Fior non era che a boche centinaia di metri. Noi vi eravamo troppo addossati perché fosse visibile, ma i colpi erano rari. Il maggiore aveva spiegato per terra una grande carta topografica ed esaminava fumando. Improvviso, le raffiche di due mitragliatrici dall'alto si abbatterono su di noi. Il maggiore abbandonò la carta e si precipitò sulla testa del battaglione per farlo rinculare. In un attimo ci sottraemmo al tiro e ci sparpagliamo dietro le rocce. Dopo la prima sorpresa non tardammo a constatare che il nemico dominava lo sbocco della malga. Evidentemente durante la notte si era impossessato di uno dei punti più elevati e vi aveva collocato le mitragliatrici. Ma lateralmente tutte le posizioni erano ancora nostre altrimenti nella malga non sarebbe potuto arrestare nessuno. Là erano invece ancora il comando dei gruppi alpini e del settore e i posti di medicazione da cui provenivano i feriti. Anche la colonna dei feriti dovete arrestarsi e retrocedere. Prenda due portaordini mi disse il maggiore vada alla malga e si informi di ciò che è avvenuto durante la notte. Dica al comando degli alpini che noi siamo arrivati e che attendiamo ordini. Il maggiore ornò il discorso di qualche bestemmia. Era toscano di Firenze e bestemmiava di giorno e di notte. Quando era eccitato adoperava senza parsimonia tutto il repertorio dell'ungarno. Con i due portaordini di corsa traversai il terreno che le mitragliatrici spazzavano e in pochi minuti mi trovai al coperto. Il comando dei gruppi alpini si vedeva in fondo alla malga addossato al pendio. La croce rossa dei posti di medicazione era issata a fianco su una capanna di legno vecchio rifugio con le vacche al pascolo d'estate e io mi diressi là. La capanna e le diacenza erano ingombre di feriti che attendevano di essere trasportati a Fozza. Altri feriti scendevano continuamente dall'alto. Chiesi del comandante dei gruppi. Mi fu mostrato un ufficiale che stava a fianco in piedi avvolto in un gran mantello d'ordinanza lo sguardo fisso sulle alture della malga. Io mi presentai e gli aveva un elmetto in testa e non si distinguevano i gradi ma nel darmi la mano mostrò i galloni della giubba. Era un colonnello. Ascoltò quanto gli dissi apparentemente calmo malgrado l'insonnia che si leggeva sul volto e le comunicazioni che riceveva da ogni parte del settore. vicino a lui un capitano scriveva e non alzò neppure la testa. Noi siamo malmessi e non abbiamo forze sufficienti per resistere. Non abbiamo artiglieria tranne quella del forte Lisser a dieci chilometri che mi ha ucciso un ufficiale e qualche soldato. Non abbiamo mitragliatrici. L'artiglieria nemica ce le ha messe tutte fuori uso. Il colonnello fece un gesto di sconforto. Di sotto il mantello levò una borraccia di metallo bianco la contemplò quasi volesse accertarsi che era sempre la stessa e ne bevette un sorso e riprese. Questa notte siamo stati attaccati nella selletta da forze superiori. Tutta una compagnia è stata distrutta una compagnia del suo reggimento la quarta. Non si è salvato nessun ufficiale. Aveva rimpiazzato uno dei miei battaglioni che è stato distrutto ieri nel pomeriggio. Ne informi il suo comando. Signor sì. Il colonnello cercò ancora la borraccia e ne bevette un altro sorso. Dica al suo comando di battaglione che evitando il terreno battuto dalle mitragliatrici passando più a destra attacchi la selletta. Il suo compito è di riprendere la selletta. Il suo battaglione è in gamba? In gamba. Disposto a tutto? A tutto. Il colonnello aveva ancora in pugno la borraccia a mio frida bere. Dica al suo comandante che lei mi ha trovato qui. Che lei ha trovato qui il colonnello Stringari comandante dei gruppi alpini deciso a morire. Signor sì. Egli dica che qui noi dobbiamo morire tutti. Tutti dobbiamo morire. Il nostro dovere è questo. Glielo dica. Ha capito? Signor sì. Lui discesi di corsa riferì al maggiore. Quando gli dissi che dovevamo morire tutti il maggiore rupe in bestemmie. Morire tutti. Incominci con morire lui. Affare suo. Faccia pure. Per noi il problema è vivere non morire. Che se moriamo tutti. Gli austriaci scendono a Bassano fumando la pipa. È la selletta dunque che dobbiamo attaccare? È la selletta. Dammi da bere. Gridò il maggiore al suo attendente. L'attendente gli porse la borraccia di cognac. Attaccare la selletta era un'operazione difficile ma il maggiore nonostante il suo nervosismo sapeva comandare il battaglione. Forse ci saremmo riusciti. Il battaglione aveva già serrato e le compagnie erano in ordine. Il maggiore mandò il tenente Santini della Nona con il suo plotone a riconoscere il terreno. Egli pensava si dovesse fare un percorso più lungo per poi avere il vantaggio di attaccare la selletta dall'alto da destra anziché attaccarla di fronte dal basso. Mentre le compagnie iniziavano il movimento un sottotanente degli alpini da Malga allora ci venne incontro l'attore di un ordine scritto. Il colonnello ordinava che il battaglione sospendesse l'azione della selletta e il più celermente possibile prendesse posizione a Monte Spill di fronte a Monte Fior. Era un'operazione tutta differente perché la selletta era a destra di Malga Lora e Monte Spill a sinistra. Il maggiore chiese spiegazioni il sottotenente spiegò che il colonnello temeva che gli austriaci potessero da un momento all'altro forzare le nostre posizioni su Monte Fior e spingersi innanzi. Immediatamente dopo il mio abboccamento con il colonnello il battaglione bassano aveva dovuto ripiegare ridotto a 40 uomini occorreva quindi correre ai ripari nel punto più delicato di fronte allo stesso ufficiale alpino il maggiore bestemmiò sugli ordini e i controordini ma iniziò lo spostamento del battaglione verso Monte Spill quel giorno egli era più nervoso di quanto non lo fosse normalmente a ogni istante non faceva che chiedere se il mulo che portava le cassette del comando di battaglione fosse arrivato ma il mulo non arrivava le cassette non c'erano di alcuna utilità e l'impazienza del maggiore doveva avere un'altra causa io non stentai a capire che egli attendeva la sua cassetta personale non quella del comando nel battaglione eravamo in pochi a sapere che egli nei giorni di combattimento era solito indossare una corazza per non appesantirsi durante la marcia egli l'aveva lasciata indietro con le salmerie era certamente nella sua cassetta personale egli con ambo le mani si tastava continuamente il petto ma la corazza era assente era abituato ai rischi della guerra aveva fatto anche quella libica probabilmente senza corazza ma ora questa costituiva un'idea fissa che lo teneva in permanente agitazione il battaglione fu riempito dalle sue bestemmie il battaglione scalava montespil con fatica il terreno era difficile ricoperto di cespugli un plotone della nona con il tenente santini marciava in esplorazione una pattuglia nemica con mitragliatrice cadde nelle sue mani noi non potemmo stabilire da dove fosse potuta passare perché di fronte a noi le nostre linee resistevano ancora probabilmente era una pattuglia di un altro settore sperduta mandammo indietro i prigionieri senza essere riusciti a comprenderli stavolta erano veramente bosniaci questo felice episodio rasserenò il quanto il maggiore che volle che ad ognuno di essi fossero dati sigarette e pane verso le 5 del pomeriggio arrivammo a montespil montefior resisteva ancora attorno a montespil erano accorsi anche battaglioni di fanteria di altri reggimenti un sottotenente di uno di questi battaglioni ci vide arrivare e ci venne incontro per stabilire i collegamenti quando egli risalì al suo comando io voglio accompagnarlo per rendermi conto delle forze sulle quali il nostro battaglione poteva contare sulla sua sinistra e caldi per la seconda volta sul tenente colonnello dell'osservatorio di stoccaredo egli comandava ora due battaglioni del suo reggimento il comando del quale con un battaglione era rimasto a stoccaredo anche egli dipendeva dal comando dei gruppi alpini egli stava straiato sotto la tenda aperta protetta da una grande roccia fu lui che mi vide per primo e mi chiamò venga qui si sieda un minuto che cosa le avevo detto io ecco gli austriaci attaccano Montefior e mi sedetti per terra vicino alla tenda egli rimase straiato su una coperta da campo una bottiglia senza marca e un bicchierino erano a sua portata di mano mi rivolse ancora qualche domanda sui miei studi ah lei conosce anche l'università di Torino ma bravo facciamo quattro chiacchiere senza parlare di guerra egli era piemontese guerra sempre guerra c'è da diventare pazzi con lei posso parlare francamente ma certo disse io per me è un vero piacere io sono un ufficiale sbagliato sinceramente ho io la faccia di un ufficiale di carriera ho fatto due anni di università in lettere sempre il primo del corso quella era la mia carriera ma mio padre aveva un chiodo nella testa che dico un chiodo una sciabola mi ha obbligato a entrare nella scuola militare mio padre era colonnello mio nonno generale mio bisnonno generale mio trisnonno insomma io ho in corpo otto generazioni di ufficiali in linea retta mi hanno rovinato il tenente colonnello parlava lentamente beveva lentamente beveva a sorsi come si centellina una tazza di caffè io mi difendo bevendo altrimenti sarei già al manicomio contro le scelleratezze del mondo un uomo onesto si difende bevendo è da oltre un anno che io faccio la guerra un po' su tutti i fronti e finora non ho visto in faccia un solo austriaco eppure ci uccidiamo a vicenda tutti i giorni uccidersi senza conoscersi senza neppure vedersi è orribile è per questo che ci ubriachiamo tutti da una parte e dall'altra ha mai ucciso nessuno lei lei personalmente con le sue mani io spero di no io nessuno già non ho visto nessuno eppure se tutti di comune accordo lealmente cessassimo di bere forse la guerra finirebbe ma se bevono gli altri bevo anch'io veda io ho una lunga esperienza non è l'artiglieria che ci tiene in piedi noi di fanteria anzi il contrario la nostra artiglieria ci mette spesso a terra tirandoci addosso anche l'artiglieria austriaca tira sovente sulla propria fanteria naturalmente la tecnica è la stessa abolisca l'artiglieria dambo le parti la guerra continua ma provi ad abolire il vino e i liquori provi un po' si provi io ho già provato insignificante e deplorevole fatto personale ma estendo l'esempio come ordine come norma generale nessuno di noi si muoverà più l'anima del combattente di questa guerra è l'alcol il primo motore è l'alcol perciò i soldati nella loro infinita sapienza lo chiamano benzina il colonnello si alzò il suo viso pallido si illuminò di un sorriso da un mucchio di carte tirò fuori un libro me lo agitò di fronte agli occhi e mi chiese che libro è? indovini che libro? il regolamento sul servizio di guerra dissi io senza convinzione cercando di leggerne il titolo io il servizio di guerra ma lei è matto indovini dunque capì che si trattava di un libro attuale in rapporto alla sua predilezione bacco in toscana dissi no ma si avvicina anacreonte no io cercavo un altro nome di illustre bevitore il tenente colonnello si mise la testa sotto gli occhi lo lessi l'arte di prepararsi i liquori da se stessi capirà spiegò con questa maledetta guerra in montagna non possiamo trasportare con noi neppure due bottiglie così io posso prepararne quanto ne voglio lo so c'è una bella differenza fra l'alcol distillato e quello in polvere ma meglio così che niente arte rara dissi io rara ripete il colonnello mi creda vale l'arte della guerra a Montefiore il combattimento infuriava grazie a tutti grazie a tutti